ciao e bentornati sul canale bentornati carissimi amici per una sorpresa golosa questa volta allora kinder joy ovvero il kinder sorpresa estivo perché cosa succedeva tanto tempo fa la kinder produceva gli ovetti arrivava l'estate gli ovetti si scioglievano e io me lo ricordo quando anche d'estate c'erano i bartend tentavano di salvarli ma erano tutti schiacciati tutto lievi la cartina metallica e sotto era un pacciugo di che dovevi ciucciare la carta da luminare una cosa bruttissima con questa invenzione facendo una sorta di ovetto kinder sciolto già all'interno hanno avviato a questa problematica del cioccolato sciolto mantenendo la sorpresa punto adesso ho fatto la mia racconto per spiegare un po la cosa tecnica adesso è di super mario anche se è di super mario che a me non piace molto a me si perché super mario è uscito quando io ero giovane ero bambino bambino a me non piace molto perché sono una femmina però eh ma perché non hai la switch se avessi la switch giocassi a super mario kart o ad altri super mario vedresti che ti piacerebbe anche a te allora in questo caso non sono più come con la cartina sono di plastica e soprattutto ci dice tre sorprese su tre quindi troveremo solo cose di super mario quindi appassionati di super mario forza fatevi sotto vai a te l'apertura allora perfetto allora da questa parte troverete le due palline praline di cereali con il cioccolato sciolto e la palettina per mangiarlo dall'altra parte la sorpresa che adesso andiamo a vedere credo che tu ti sia sbagliato perfetto ho detto esattamente il contrario allora di qua c'è la sorpresa con la paletta e di qua abbiamo oramai lo facciamo vedere tanto poi te lo mangi vedete c'è la parte di latte perché ho sentito croccante e il cioccolato è all'interno e delle due palline che adesso mangerò anche io allora cosa abbiamo trovato come prima sorpresa di super mario a parte che c'è un filetto c'è un filo perché probabilmente qualcosa da appendere andiamo a vedere è una specie di super mario qui ci sono degli adesivi da attaccare sui due lati e questo è luigi è luigi il fratello di mario e questo lo so è un porta chiavi fondamentalmente ma come senti attaccare con gli adesivi sono degli adesivi li attacco io come sembra e poi c'è scusami nooo oltre a essere un porta chiavi guarda questi li puoi attaccare agli auricolari e questo è un porta auricolari ah qui arrotoli ecco adesso ve lo facciamo vedere bene ho capito finalmente questo è per arrotolare il filo dell'auricolare e questi due si possono attaccare alle parti finali degli auricolari per renderle più carini bene una cosa carina ma cosa c'è all'interno delle palline lo scopriremo solo mangiandole credo sì però se lo fai durante la recensione non ti sentiamo più parlare è cremoso è buono assaggia solo la crema uno l'opero io intanto com'è e voilà e qui abbiamo la parte da alimentare io che ti dicevo sempre no non mi piacciono così non compriamole invece sono buonissimi prego a te l'apertura delle sorprese dopo mangi buonissimi te lo giuro cioè ve lo giuro non li avevo mai assaggiati e ho fatto male qui abbiamo la stessa cosa di prima credo più o meno non lo so forse abbiamo detto una cosa errata allora questo invece è per abbellire e arrotolare credo anche il cavo usb il cavo di caricamento del cellulare allora si fa così si inserisce il cavo all'interno e poi si chiude in modo da avere il cavo qua dentro e quindi due cose anche utili vediamo rivediamo qui vedete vi fa vedere come si chiude il cavo all'interno voi non avete visto niente non ho mangiato ancora no figuriamoci non stai mangiando assolutamente no e poi questo è bellissimo cos'è ma non lo so neanche cos'è vediamo vediamo è un laccetto che funge da braccialetto lega oggetti lega matite anche segnalibro può fare tutto e ha sopra tu che non conosci il mondo di super mario un fungo esattamente un fungo cattivo eccolo qua e questo è il braccialetto che può avere varie funzioni come abbiamo visto io mi aspettavo dei pupazzetti a essere sincero non delle cose utili che sono comunque belle sicuramente però dalle sorpresine io propendo per la sorpresa tu stai mangiando ma c'è anche il pezzo marrone sì quella è la sfoglietta come i tronchi che tu non hai assaggiato vabbè e carini spero vi siano piaciuti ne apriremo sicuramente poi più ore di ritorno degli ovetti kinder quando ritornerà il fresco abbiamo delle sorprese enormi che però non possiamo anticiparvi giusto e quindi finisci di mentre finisci di mangiare con la bocca piena